Ciao a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo video sul canale di Fumetto Online dove oggi andremo a vedere il numero in uscita in edicola per il topo della settimana, numero 3347. Ma prima di vedere il fumetto vi mostro la seconda banconota per i paper dollari, questa volta ritrae paperone con il valore di un fantastiliardo, questo è il fronte, questo è il retro, e lo vado a mettere dentro l'albo da collezione. Queste sono le due banconote uscite finora, una ritrae rocker duck, l'altra ritrae zio paperone e direi di passare immediatamente al topo di questa settimana. Boom Boom è il cappello fortunato, double duck, cortocircuito, internal error, episodio 3, episodio finale della saga, di cui parlerò a breve, un salto nel passato a scacchi in piazza, zio paperone rocker duck e la sfida salva club, il coding a paperopoli, zio paperone e la ruveria condizionata, e young indiana e il mistero del jolly roger. Partiamo immediatamente con Boom Boom e il cappello fortunato, storia che vede il ritorno di Boom Boom Ghigno dopo parecchio tempo, dopo parecchia assenza dalle pagine del settimanale, lo vediamo alle prese con la sua solita iella, la sfortuna l'ho perseguita come sempre, qua lo vediamo alle prese con una mano a carte con Paperino e Archimede i suoi amici, e non gli va molto bene come al solito. E nella storia di Corrado Mastantuono, Boom Boom riceverà anche un dono dai suoi due amici, Paperino e Archimede, che avrà risvolti improbabili scacchi in piazza per l'episodio di Un salto nel passato. Secondo l'episodio di questa mini serie, ormai si può confermare come una serie Un salto nel passato, che vede Pippo e il professor Zapotec alle prese con dei viaggi nel passato, in questo caso si ritrovano alle prese con una partita a scacchi. Una notizia sconvolge i club dei miliardari, ossia vogliono sostanzialmente rimpiazzare la sede del club con un distributore di benzina. Questo magnate del petrolio texano ha intenzione di radere al suolo il club, e i due soci più influenti, Paperone e Rockerdac, ovviamente litigando come pochi sanno fare, decidono di intervenire e salvare il loro club preferito. Andiamo avanti con il coding a Paperopoli, Zio Paperone e la ruberia condizionata, dove vediamo Zio Paperone alle prese con un nuovo antifurto, l'ennesimo per respingere i bassotti. Questa volta, come poi vediamo anche nello scorso episodio di coding a Paperopoli, si tratta di un software elettronico da lui programmato, software che è in grado di riconoscere dei comandi ben precisi una volta inseriti al suo interno, in questo caso, come potete vedere da questa vignetta, i comandi inseriti sono se e altrimenti, li utilizza per scacciare i ladri, appunto, con una serie di parole chiave, per esempio, se ci sono dei criminali, attiva le difese, altrimenti non attivarle. Andiamo alla penultima storia di oggi, Young Indiana, il mistero del Jolly Roger, prima di passare all'ultimo episodio di Cortocircuito. In questa storia, Young Indiana è alle prese, assieme a Kranz, a un professore e a un suo amico, alle prese con il tesoro del Jolly Roger, che si suppone fosse un parente del direttore dell'università che sta frequentando, e quindi saranno alle prese da recuperare questo tesoro. Come sempre, si tratta di una storia caratterizzata dalla ricerca di indizi, che qui può coinvolgere anche direttamente se rivela una storia interessante, ma mai quanto è interessante, a mio avviso, la storia della settimana, Cortocircuito, Double Duck, ultimo episodio. Devo dire che, come sempre, le storie di Double Duck sono caratterizzate da immancabili colpi di scena, sempre ben posizionati, ben strutturati. In questo caso, la scena si apre dentro la casa dove ci eravamo lasciati la settimana scorsa, con Paperino, alias Double Duck, imprigionato da Kai Koe e i suoi scagnozzi. Vi invito chiaramente a leggerla. Prima di arrivare alla recensione che farò in settimana, la farò a breve, non so esattamente se la farò uscire a venerdì o sabato, ma so per certo che la farò uscire in settimana, perché è immancabile, non ho intenzione di farmi e di farvi perdere niente. E sì, affrettatevi a leggerla perché ne vale la pena, è una gran bella storia. Torniamo con il nostro appuntamento canonico con il calcio. Ho deciso di strutturare il topo della settimana in modo da farvi vedere prima le storie, lasciando sempre per ultimo quella che ritengo più interessante, per poi passare ai vari servizi che ci sono all'interno, quindi approfondimenti, e al canonico ormai il nostro approfondimento calcistico riguardo ai colori delle maglie della Serie A. Arriviamo al secondo episodio. Questa volta le squadre sono Fiorentina, Atalanta, Torino, Lazio, Sampdoria, Genua, Cagliari e Bologna, dove si scopre come sono stati decisi i colori delle maglie, anche un po' l'origine della Sampdoria. Abbiamo poi un approfondimento, un'intervista a Tiziano Ferro e direi che abbiamo concluso con il topo di questa settimana. Come sempre, mi auguro che il video vi sia piaciuto, in caso vi invito a lasciare un mi piace, a condividere il video e ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Come sempre vi rimando anche ai nostri prossimi appuntamenti, come ho detto in settimana uscirà la recensione di Double Duck Corto Circuito, che spero abbiate letto ormai tutti e che vi sia piaciuta. E come sempre vi auguro una buona giornata o una buona serata.